e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono senix e oggi signori siamo tornati su football manager 2020 intanto io vado avanti ci avviamo verso la partita contro il sassuolo chi mi conosce già sa che io ho la tachicardia perché purtroppo chi ha visto i video precedenti non stiamo andando benissimo ma non tanto perde meriti nostri anche assolutamente non metto in dubbio questo ma soprattutto perché la sfortuna diciamo ci ha preso di mira perché dominiamo le partite abbiamo dominato le ultime partite però abbiamo raccolto zero punti praticamente ragazzi e quindi io già sono nervoso proprio il nervosissimo un guollo come si dice però prima di tuffarci nell'atmosfera del campionato di serie a ragazzi mi raccomando è molto importante una bella condivisione un'iscrizione al canale qualora non lo foste un bel like perché fa sempre piacere mi fa capire bene o male che a prescindere dai risultati che stiamo ottenendo e la serie vi continua a piacere perché è adesso proprio il momento in cui dobbiamo dimostrare tutti di essere un team unito una squadra che si vede proprio nei momenti di difficoltà abbiamo cambiato modulo ragazzi ora vi farò vedere poi la formazione direttamente in campo sarà rivoluzione sarà rivoluzione ho fatto tutti i vostri consigli ragazzi delle rimesse laterali ho cambiato i battitori di rimessa laterali di calci punizione di calci d'angolo abbiamo messo i tutoraggi abbiamo fatto tutto ragazzi abbiamo fatto di tutto abbiamo messo le due punte come avete detto insomma ragazzi oggi ci aspettiamo una una inversione di marcia e infatti andiamo a vedere tra l'altro contro chi cazzo lo giocheremo oggi abbiamo cittadella e sassuola in casa cittadella in trasferta e poi la juventus in casa quindi perlomeno speriamo quattro punti io direi di attestarlo come obiettivo minimo della puntata uno contro il sassuola magari e tre contro il cittadella e zero per contare juve vediamo ragazzi se questo nuovo modulo andrà a darci le soddisfazioni che comunque ci meritiamo l'atmosfera spogliatoio comunque sta salendo ragazzi era preente qua sotto super mega rossa quindi sta salendo il nostro sostegno è eccellente quindi i giocatori comunque ci seguono sono dalla nostra parte sappiamo bene che dobbiamo migliorare sappiamo bene che possiamo farlo e allora ragazzi siamo concentratissimi le quote catania 263 il pareggio a tre il sassuola 250 l'arbitro morizio mariani lo stato di forma è quello che andiamo a vedere subito le formazioni in campo noi ci presentiamo signori con la nostra novità di formazione un 4 4 2 diamante stretta tiki taka come avete detto voi sportioli in porta cilberto lecene bastoni e seovic in difesa viviani come mediano medel come pitbull in mezzo al campo moriba trequartista mobile xanas dietro le due punte colidio ed esposito quindi i due giovanissimi dell'inter anche il sassuolo quindi giochiamo praticamente a specchio si presenta con un 4 4 2 diamante stretto e perina in porta chiri che scombulla bisoli e checchi in difesa grassi alilovic e tra ore al centrocampo russilo dietro le due punte babacar e berardi benissimo parliamo alla squadra energico dunque 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 in media parlano male di voi da secoli questa è l'occasione per andare in campo e lasciarli di stucco daie daie sono tutti motivati daie regà siamo pure in casa abbiamo il pubblico delle grandi occasioni dalla nostra parte e oggi signori possiamo invertire la rotta dobbiamo invertire la rotta il sassuolo sta si attraversando un buon momento però è pur sempre il sassuolo non è la juventus viviani lecene attenzione bastoni per lecene viviani l'allarga verso gilberto gilberto adesso la responsabilità della fascia è tutta addosso ai terzini ovviamente gilberto dall'altro lato benissimo per seovic ancora bastoni il giro palla è ottimo al momento seovic ancora per bastoni all'indietro ricominciamo verso sportiello che l'allarga a gilberto gilberto centralmente per moriva lecene gilberto è un possesso palla abbastanza sterile al momento non riusciamo a trovare spazi però lecene il lancio lungo verso esposito esposito di breve esposito esposito ma perché ma che tiro sono esposito che tiri sono ma che cosa che hai la forza di un bambino neonato ha in quel piede vabbè però ci siamo dai il primo la prima azione era eccellente eccellente adesso c'è il sassuolo in possesso palla liloci in mezzo lecene allontana c'è seovic vediamo la va a recuperare contro checchi seovic no niente checchi passa in mezzo per ardi lo blocchiamo e ovviamente arrivano loro un tiro un gollo io vorrei spaccare tutto e non lo so che posso prendere un tirapugni mi serve da spaccare nello schermo poi non vedrei nulla e quindi non potremmo continuare va bene dai ragazzi andiamo ad incoraggiare dai raga incoraggiamo non vi preoccupate possiamo farcela sicuramente finisce il primo tempo ragazzi allora appassionato mostrate loro chi siete nel secondo avete meritato certo ci sono state due azioni soltanto nel primo domandiamo di più alla squadra niente tutti sotto pressione qua non c'è nessuno che va a seguire il mio gioco settantesimo allora andiamo a fare un attimo due cambi mettiamo gilberto per mbaie così lo spostiamo in attacco lo stesso facciamo per seovic lo spostiamo in attacco e colidio che non è stato assolutamente presente a se stesso oggi lo spostiamo cioè lo facciamo entrare al posto di vlauic però vorrei un attaccante che pressa ecco che così è un po più basso e mettiamo a bucciabacca per xalas come trequartista e mo basta i cambi sono finiti quindi non possiamo andare avanti vediamo se con questi i cambi tatti ci andiamo a modificare poi mi ha detto chi viene monito niente non ci sono arrivato alilovic ancora scusate in mezzo fra te sei lontano attenzione contropiede esposito poi vlauic sei bello fresco sei bello fresco vlauic hai tutta la freschezza addosso in mezzo vlauic dall'altra parte c'è seovic che la tira mamma mia il sinistro il diagonale niente va fuori va fuori 85esimo seovic ci spostiamo in offensiva esposito dentro l'area di rigore kiriches va a intercettare ancora esposito la mette in mezzo moriba di testa mamma oh ma poi ma porca miseria va un'altra occasione possiamo andate avanti ragazzi sassuolare mette in avanti c'è esposito però guardate la squadra con carattere sta cercando il pareggio esposito il tiro di esposito niente oh ma veramente ragazzi io non so che fa guardate 11 tiri sei in porta nulla di nulla ancora vediamo se c'è l'ultimo seovic è esposito in mezzo per vlauic di testa e palle del gol c'è ed è il gol sono cesarini ce la facciamo va bene un pareggio 1-1 ce lo prendiamo ce lo prendiamo abbiamo giocato meglio come sempre porca miseria porca e ci meritavamo di più non hanno fatto un cazzarola di nulla questi oh va bene appassionato sono felice dai alziamo il morale dai 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 che mo c'è il cittadella e qua deve essere vittoria signori bravo seovic mi è piaciuta comunque la squadra mi è piaciuto il gioco ragazzi ovviamente siamo stati puniti dal solito cazzarola di tiro della partita perché ne hanno fatto uno solo e come sempre un gol mentre noi abbiamo visto almeno quattro azioni pericolose dove abbiamo concluso a rete una volta sola però al 94esimo va benissimo così è un pareggio che profuma di vittoria e adesso contro il cittadella una partita importantissima perché ci potrà servire qualora vincessimo anche ad alzare finalmente il morale ancora di più portarlo definitivamente alle stelle perché come vedete non è bassissimo diciamo è medio alto a parte chi è questo ah gilberto è un po scarso di morale perché non ha giocato recentemente allora signori arriviamo allo scontro contro il cittadella la partita più importante probabilmente in questo momento del campionato il cittadella a 263 il pareggio a 3 il catania a 250 l'arbitro sarà davide massa lo stato di forma dice tre sconfitte un pareggio e una vittoria per entrambe le squadre allora ci siamo signori o per sbaglio soltanto le formazioni ma adesso andiamo a vedere forza mostratemi quello che sapete fare parliamo alla squadra calcio di inizio dunque il cittadella si presenta con paleri in porta giringhelli ed orni varotta e zanella a in difesa branca mediano ruggero e dursa centrocampo samuelsen cabezas a supporto di rossi lì davanti mentre noi scendiamo in campo con sportiello maie legion bastoni seovic in difesa il centrocampo in linea moriba viviani medel a bucciabacca a sostegno di colidio ed esposito siamo un po leggerini lì davanti soprattutto a livello di esperienza ma vediamo che succede ruggero vai che partiamo in contropiede forza ragazzi dai che questa partita si deve vincere assolutissimamente e infatti eh sì sì si deve vincere così tanto che c'è subito rossi che la va a sfiorare il gol del vantaggio d'urso a battere dalla bandierina in mezzo ok la riusciamo a spazzare viviani adesso catani in possesso balla ambaglialli indietro per sportiello ricominciamo dal portiere medel verso viviani viviani per moriba moriba viviani guardate come fraseggia comunque il nostro centrocampo seovic all'indietro per bastoni moriba legion all'indietro ancora bastoni ancora per sportiello ricominciamo ancora una volta dal portiere ancora bastoni seovic cerchiamo spazi che non riusciamo però a trovare siamo costretti ad indietreggiare viviani il lancio esposito niente ma poi neanche la porta prende cioè neanche la porta proprio ha tirato dritto per dritto ha tirato e qua c'è rossi che anche lui di precisione non ne fa la sua maggior virtù seovic finalmente una partita bella vivace però ambagliè dentro l'aria in mezzo niente ribattuto c'è capezzas che può ripartire lancio lunghissimo verso rossi due contro uno due contro uno rossi aspetta i suoi compagni grandissimo intervento di legione che fa ripartire attenzione colidio esposito di prego esposito per una volta nella tua vita esposito sfonda la porta sfonda la porta sebastiano alleluia grandissimo qua il nostro contropiede grazie a legione che è andato a recuperare col pallone velenosissimo dentro la nostra di rigore e siamo ripartiti con un contropiede magistrale sportiello adesso ancora il caderno in possesso palla legione medel viviani moriba per medel mai e sulla fascia destra adesso il peso delle fasce tutto sui terzini imbaiae moriba bucciabacca verso un baiae il tiro di imbaiae c'è la parata del portiere paleari e moriba si è fatto male e si mi sa di sì aspettiamo di voler uscire ok moriba vuole uscire signori attenzione mettiamo xadas va bene xadas mettiamo invece ranocchia ok mettiamo ranocchia al posto di moriba finisce il primo tempo le chiudiamo sull'uno a zero dai allora a dunque appassionato dove quello di non rilassatevi dobbiamo evitare di rilassarci esatto chi è stressato colidio che non ha fatto una mazza lui è stressato vabbè chissà come mai 61esimo seovic verso esposito a bucciabacca ancora il cadane che sta dimostrando un ottimo giropalla bucciabacca ranocchia ancora l'indietro per bastoni siamo anche capaci di andare indietro ricominciare alla ricerca di spazi bastoni vedete appunto proprio quello che appena detto ricominciamo da sportiello adesso con calma non c'è fretta ragazzi ranocchia verso bucciabacca iolè del pubblico addirittura dei nostri tifosi in trasferta che sono andati fino a cittadella le cenne centralmente per viviani medel medel ancora per viviani cerchiamo lo spazio giusto il varco per affondare il colpo ranocchia eccolo qua il varco eccolo qua il varco ma esposito purtroppo di varchi non se ne intende effettivamente quindi la spara al lato però ci siamo ragazzi siamo ci siamo la rivoluzione è in atto andiamo a fare un attimo due cambi xadas lo mettiamo al posto di a bucciabacca poi chi ha giocato male vediamo 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 vabbè più o meno sono tutti uguali vediamo allora chi ha più bisogno medel che è un po stanco possiamo metterlo al posto di ideio la perfetto come centrocampista di quantità di supporto ottimo ne abbiamo due anzi le mettiamo due laterali lui ranocchio lo mettiamo come regista retrato di supporto e viviani lo mettiamo come centrocampista di quantità perfetto e poi basta abbiamo finito i cambi ottimo settantaduesimo andiamo a dire alla squadra di perdere un attimo un po di tempo vi prego vi scongiuro certo poi noi sempre vittorie risicate mai un 2 3 a 0 bello uno si mette l'anima in pace ed eccolo qua il 2 a 0 il mio pupillo bastoni finalmente ragazzi una boccata d'ossigeno una boccata d'aria fresca ma a prescindere dal risultato quello che sta impressionando è il gioco il gioco la personalità della squadra che anche nella partita precedente è andata fino all'ultimo a combattere a cercare il pareggio contro il sassuolo al 94esimo adesso abbiamo dominato una partita in trasferta tra l'altro che è vista la nostra condizione mentale non è facilissima è ancora però c'è il cittadella che cerca di accorciare le distanze ma c'è sportiello che non è d'accordo colidio è una partita in ombra per facundo magari alla prossima andremo a provare vlaovic siamo al 90esimo 91 92 93 e andiamo a vincere signori partita fondamentale fondamentale perfetto appassionato sono davvero felice assolutamente sì questo serve ad aumentare il morale ragazzi assolutamente sì la classifica come sempre la vedremo a fine episodio e adesso ragazzi arriva la juventus che ovviamente qua non ci aspettiamo nulla di che però cerchiamo più che altro di confermare il bel gioco che abbiamo visto finora poi il risultato sarà quel che sarà la juve è a 1 e 67 appunto il pareggio è 3 25 il catania 4 50 però anche la juve non sta andando proprio alla grande come vedete è settima in campionato quindi chi lo sa chi lo sa chi lo sa carboni prevede un incontro difficile a per il cittadella ma che c'è ma che te frega carboni ma fatti li cazzi tua carboni pensa al catania che te frega del cittadella e allora eccoci qua nella partita del divertimento nella partita della rilassatezza dove non abbiamo la pressione di andare a fare il risultato sportello in porta ambaglia le 100 bastoni seovic in difesa ronocchi viviani medel a centrocampo a bucciabacca collidio esposito lì davanti mentre la juve guardate che squadra che ha la juve o scelta in porta danilo delict bonucci alexandro in difesa verrati bentancur e vizel a centrocampo bruno fernandes a supporto di ronaldo e luisito suarez però c'è da dire che la juve un po avanti con l'età mi sembra che l'età media sia molto molto superiore rispetto alla nostra e so che di molti di voi vorranno ma si vendichiamoci ma dai uve affiguriamoci non ci aspettiamo nulla di buono oggi verratti il lancio lunghissimo verso ronaldo e che ma che palle sti rigori oh ma mo c'è preso ogni partita il rigore prima non c'erano tutti sti rigori durante le partite mo sempre rigore vabbè dai tanto il rigore questo lo sappiamo ronaldo andrà a battere e sportiello l'andrà a parare dai sportiello noi confidiamo in te sportiello ecco rosario abisso fischia il rigore ronaldo pronto a battere vai sportiello tutti tutti con te sportiello si grande sportiello lo sapevo ragazzi basta aver fiducia basta aver fiducia grande sportiello tra l'altro un pari a rigori anche negli episodi scorsi se non sbaglio ne ha parati due esposito adesso parte in controvieta vabbè bruno fernandesce lo blocca ma grandissimo sportiello 7.2 del resto il suo punteggio grandissimo grandissimo juve ancora in possesso palla ronaldo sulla fascia corre velocissimo ancora bastoni bravissimo come lo ferma però poi si addormenta peccato bastoni ha avuto un attimo di narcolessia lì però è stato bravo comunque dai allora mezz'ora ancora siamo 0 a 0 già questo per noi è un risultato sorprendente 40 stiamo quasi andando allo scadere resisteremo 0 a 0 ottimo anche uno 0 a 0 ragazzi per me sarebbe come una vittoria appassionato non stiamo solitamente giocando male se continuate ad impegnarvi potremmo vincere vabbè nessuno gliene frega perfetto 59 attenzione sportiello l'appoggio alle genne bastoni giochiamo tranquilli ragazzi giochiamo tranquilli in baie verso ranocchia ranocchia e calla bruno fernandesce in mezzo il tiro e c'è il gol di ronaldo che giustamente non può sbagliarne due su due una la deve purfare il buon ronaldo vabbè ci stava ci stava vediamo però medelle in baie all'indietro le genne baie per le genne ancora il lancio verso nessuno c'è suarez il tiro la parata di sportiello che sta davvero giocando una partita incredibile ancora sportiello all'indietro non abbiamo fatto neanche un tiro chissà se mai lo faremo bastoni seo che c'è ancora verso bastoni medel perché la giochiamo la ragazzi perché la giochiamo la ronaldo è diventato molto impreciso o allora vlavic è fuori gioco d'accordo non può giocare moriba non è al massimo siamo anche un po medel io direi di sostituirlo con federico no con con chi con si federico viviani il buon medel lo mettiamo registra a retrato di difesa sì ok lasciamolo così alziamo i terzini frattifichemente di attacco e lo so raga tanto 1 a 0 3 a 0 almeno ci proviamo mettiamo arcadius rega al posto di seovic e per adesso va bene così danilo attenzione reca il lancio lunghissimo mamma mia ti prego esposito ti prego ti faccio una stato di sopplico ranocchio al tiro pro almeno provate provate non si sa mai un colpo di culo va dentro tutta l'incrocia buccia banca esposito ti prego mamma mia perché è così cane questo perché tutto a me perché 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 tutto solo è risposito perché mi vuoi così male ronaldo ferratti danilo stiamo a pareggia con ta juve o ronaldo in mezzo su arza traversa questo ragazzo mi farà mi farà sta male questo ragazzo il buon esposito andiamo a mettere trincao dai per colidio e mamma non lo metto trincao e non abbiamo attaccanti però vlaovic non è ancora al massimo un po' infortunato quando torna tra sei giorni addirittura non non lo vorrei rischiare moribba lo stesso xadas proviamo xadas dai per a bucciabacca no però sta giocando bene quindi xadas lo andiamo a provare come c'è entra avanti come falso 9 di supporto ragazzi xadas dai ci spostiamo anche su offensiva come mentalità possiamo fare lo scherzetto alla juve io ci credo domandiamo di più alla squadra dai ci possiamo credere signori niente è finita peccato peccato ma ragazzi abbiamo ottenuto quello che volevamo tralasciando il risultato bella prova assolutamente perché abbiamo messo in difficoltà un po la juve con quell'azione che se non ci fosse stato esposito lì davanti magari la andavamo a pareggiare e allora signori la nostra rivoluzione sta portando i propri frutti perché il catania esce fuori dalla zona retrocessione seppur a un punto di distanza da empoli e brescia però ragazzi e il gioco che abbiamo visto oggi è stato davvero davvero confortante quindi mi aspetto ancora meglio nelle partite che arriveranno perché come vedete la dinamica l'affiettamento squadra è ancora molto basso l'atmosfera guardate come migliorata adesso l'atmosfera dello spogliatoio è molto molto importante il sostegno è eccellente dobbiamo far soltanto giocare questi ragazzi un po di più tutti insieme il tempo che l'affiettamento si aumenterà diventerà più più importante quindi potremmo ambire a risultati migliori quindi ragazzi il prossimo episodio aspettate andiamo a giocare contro il frosinone in trasferta la fiorentina in casa e la roma in trasferta che dove stanno in classifica frosinone ok importantissimo questo scontro fiorentina ok e l'altro cos'era il milan no la roma si la roma la roma e vabbè qua sopra la roma è qua sopra va bene quindi ragazzi quattro punti avevo detto è inizio video e quattro punti effettivamente sono arrivati alla fine fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi se finalmente abbiamo imboccato la luce che ci farà uscire da questo incubo oppure dovremmo ancora soffrire lasciate un bel like iscrivetevi al canale qualora non lo foste ancora perché abbiamo tantissime cose ancora da vedere a prescindere da football manager stiamo facendo un sacco di live ragazzi ci sono tante tante cose in questo periodo sul canale noi signori ci vediamo domani con dei nuovi video ciao ciao